bianca guaccero su tutte le furie la conduttrice di detto fatto non ha per nulla gradito le voci diffuse dal magazine nuovo che nell'ultimo numero in edicola ha lanciato l'indiscrezione che vuole alessia marcuzzi in pole position per sostituirla d'altra parte non è la prima volta che la stampa parla di chiusura riferendosi al factual in onda quotidianamente nel pomeriggio del secondo canale della tv di stato in più occasioni infatti si è puntato il dito sugli ascolti sostenendo che i numeri non sono entusiasmanti anche su questo punto la conduttrice pugliese ha voluto fare chiarezza sottolineando che in realtà il programma da lei condotto è perfettamente in linea con gli altri show di rai 2 opportuno anche rimarcare che in questi mesi la seconda rete del servizio pubblico sta vivendo un periodo di crisi totale avendo avuto un drastico calo generale che ha influito pesantemente sulle singole trasmissioni e adesso parlo io e stavolta lo faccio sul serio esordisce così bianca guaccero su instagram la conduttrice attraverso un post fiume a tratti durissimo ha commentato le ultime voci circolate su detto fatto e sulla sua eventuale chiusura in queste ultime settimane ha raccontato la conduttrice ho letto veramente di tutto in rete notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti scuse non dovute vista la penna allegra e fantasiosa di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono ci avete scritto di tutto a